Parliamo con un esperto del settore comunque ittico e soprattutto i numeri della pesca. Marco Spinavì, che è comunque presidente della Mara degli Attico. C'è un consorzio. Sono direttore dei due operativi importanti che hanno in sede 4. Una è uno qui, uno di Venezia del Culto, l'altra è il consorzio di Mara degli Attico che tra le imprese più importanti abbiamo le imparcazioni che pescano i piccoli pelati che oggi purtroppo non potete vedere perché non sono la migliore. Perché Mara non sono usciti oggi? Oggi c'è una tempesta perfetta tra la mancanza di colotto mare e la difficoltà a provare o a cercare in questo periodo e il fatto che noi abbiamo dei contratti da rispettare e quindi andare fuori con un costo medio di 3.500-3.800 euro di gasolio perché ci siamo scoperti energevoli. Prima di andare fuori, avere un costo fisso di questo tipo, non essere sicuri che poi riusciamo a pescare circa 1.000 euro di gasolio. Sono il direttore di due diverse istituzioni che sono involucrato nel colotto mare, in particolare l'azurro, 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 l'azurro. Molto pelagico. Molto pelagico. Molto pelagico. Ma in questo periodo, per riuscire il piccoli, non c'è pesce in l'Adriatico e il costo di andare fuori e prendere il pesce è 3.500 euro per giorno. Ok, quindi non è più spesso per andare fuori se non c'è nessun pesce in l'azurro, perché non c'è nessun pesce in l'azurro, perché non c'è nessun pesce in l'azurro. Ok, quindi hanno deciso di non andare fuori. Allora, professoressa, io ho visto per caso quello che è il tema di oggi, ok? Quindi pesca sostenibile, cibo e probabilmente, come posso dire, mettiamo biodiversità, ecosistema, sostenibilità. Se voi avete delle domande da farmi su questo, io sono ben felice di rispondere, altrimenti vi faccio io quattro punti, quindi voi deciderei. Ok, potete spiegare una domanda su biodiversità, sull'azurro, 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 se avete alcune domande specifiche, altrimenti vi darà alcune specifiche, possiamo iniziare con i dati, ok? e poi se avete alcune questioni, per collettare le questioni, magari alcuni dati particolari... No, no, io alcuni dati li ho e vi posso dare, ma credo che oltre ai dati ci sia da fare alcune precisazioni, soprattutto per chi studia e nei giovani, come in questo caso. Allora, state bene attenti, la pesca non è così romantica o sprovveduta come si può pensare. Cioè, non c'è più il pescatore o un'impresa, in questo caso, che va fuori, e ve l'ho dato prima l'esempio con le volanti, che fa il mestiere come, non so, il mare, no? Ok? No, non c'è più questa... Si sorta romantica o buona? No, assolutamente. Ok? To pay attention to the economic side. Siamo molto attenti, molto attenti, a quello che è la risorsa e su questo, nel caso del mare, siamo governati dall'Europa. Quindi è la commissione, la digimare, che regola tutto il vaccino mediterraneo, ma non solo, tra i paesi che chiaramente si affacciano all'Atlantico o al mare del nord, Iden. Quindi abbiamo delle regole molto, molto precise. ma in strict law, ok? Dunque, noi abbiamo, non solo con l'aiuto, chiaramente della ricerca dell'università, voi credo avete visto Palazzo Grassi, ma l'ISPRA, CNR, OGS di Trieste, e altri, magari dell'altra sponda, perché il mare, nel nostro caso, l'abriatico è condiviso, e quindi abbiamo una presenza croata molto importante. Noi stiamo monitorando il mare continuamente proprio su alcune specie che sono particolarmente, tra virgolette, stressati da quello che viene definita la mortalità della cattura. su molte risorse condivise noi abbiamo degli standard e dei calcoli algoritmici che ci portano a non fare troppa pressione di pesta su alcune specie che sono già di per sé in grave difficoltà. Citavo prima i piccoli pedagli, ma abbiamo l'essoliole, per esempio, abbiamo lo scampo, abbiamo la triglia, abbiamo il merluzzo e abbiamo una specie che per noi non è importante, almeno nella parte medio-alto adriatico, che è il gambero rosso. Abbiamo molti fischi e dobbiamo fare attenzione al stress. stiamo stressando tutti questi tipi di fischi che... il tuo nome? Scusa, il tuo nome. Il tuo nome è. Il tuo nome è Scusa Nettine Scusa Nettine quindi ci sono molte specie che sono molto pericolosi perché bisogna prendere attenzione per lasciare pieni fischi per la produzione. Quindi noi abbiamo dei parametri, in questo caso è l'MSY che per noi non deve mai andare al di sotto dello 0,4 cioè quella popolazione che deve rimanere nel mare, di individui che possono riprodursi e che è una soglia sotto la quale avremo difficoltà qualora ci fosse, come nel caso di questa estate una siccità pazzesca, una temperatura pazzesca, un apporto dei fiumi veramente molto ridotto quindi quella dinamica che l'acqua dolce va a creare con lo scontro con l'acqua salata che crea questa possibilità di tutto planto e quindi la catena alimentare che va a alimentare questo pesce e queste specie che vi ho elencato quindi il cambiamento climatico ovviamente ha avuto molti problemi ai fiumi e ai fiumi perché della salinità e dell'acqua fresca sta mixando, la temperatura dell'acqua sta aumentando e che tutto questo cambiamento molto meno cambia anche la dimensione della sostenibilità di questo pesce quindi dobbiamo mettere da parte il romanticismo, poi vengo da lei la pesca è formata da imprese, imprese che hanno degli equipaggi, quindi abbiamo dei problemi economici e sociali che devono andare di pari passo con quello che è il rispetto dell'ambiente dunque il ruolo che ho io all'interno di queste cooperative che vi citavo ma ho anche un ruolo, o l'ho avuto fino a qualche mese fa, di responsabile regionale e ho avuto per almeno 5 anni, sono stato responsabile di piccoli pelagici per tutta la GSA 17 che va a Trieste fino all'Algariano e uno dei miei ruoli, che lo sentite da come vi parlo, è stato proprio quello di difendere le imprese da chiusure o comunque da strategie, da piani di gestione, così vengono definiti multi-annual planning, perché? Perché quelle specie avrebbero dovuto, nel caso dell'impresa tradursi in riduzione delle giornate, distanza dalla tosta, grandezza delle maglie stagionalità, fermi periodici, un fermo per esempio per l'acciuga invernale, un fermo per la sardina estivo perché hanno sistemi riproduttivi diversi e quindi per non creare problemi a queste specie bisogna fare, proprio nell'agriatico, ci sono dei fermi, cioè degli stop dell'attività di pesca specifici per ogni singola specie. Il mio ruolo, proprio all'interno della commissione per quanto riguarda il Veneto, un male adriatico per il ruolo che avevo, era proprio quello di difendere il settore della pesca da questi piani di gestione che spesso hanno bisogno di una mediazione, perché l'aspetto sociale ed economico credo abbia la stessa valenza di cui lo... il suo lavoro, il suo percorso è cercare di difendere i pesciari e le grandi e le più profiche di rischiare, credo, dalla stricte norme che ora è presente nel contesto dell'accusa della fissiera. Perché non si possono far più da l'accusa, e non si possono far far a l'accusa, e non si possono far too far from la costa e dipendere da un specieso per altri spazi, quindi è un mondo veramente complicato e i pescari necessitano un mediator che necessitano di aiutare a capire cosa fare in questo mondo complicato. Con la partecipazione straordinaria della regione Anche Marche e abbiamo sviluppato proprio in ascolto e in collaborazione con le imprese di pesca per ogni tipologia, quindi sistema di pesca e per ogni dimensione di sistema di pesca che esiste nel medio alto agriatico e abbiamo proposto dei piani di gestione che sono adesso al vaglio del nostro ministero che poi li proporrà alla Commissione Europea. Detto questo io potrei chiaramente stupirti con un sacco di numeri ma preferisco che magari mi facciate voi delle domande e io magari vi rispondo perché credo che il materiale ve ne ho dato. Come vi rapportate? Come i pescatori vi contattano o come voi contattate i pescatori? Beh questa è una sala che tra l'altro è intitolata un grande amico che è venuto a mancare tutto il tempo fa per via del Covid e questa è una delle stanze in cui ci si trova per fare programmazione diciamo. Il primo ruolo di aggregazione è la cooperativa. Ci sono sistemi in Europa molto diversi, la Spagna ne ha molto simili, la Francia pure, ok. La Croazia è leggermente diversa da noi, qua la cooperativa è proprio il primo bacino che va a unire le imprese inglese, le quali cooperative poi fanno leva sulle associazioni, io lo sono stato fino a qualche mese fa, l'ho fatto per 10 anni, che rappresentano le cooperative, che rappresentano e hanno all'interno i soci che sono le aziende. di solito abbastanza spesso perché noi avevamo molto bisogno di vederci perché c'è più. Ci siamo trovati più o meno una volta a settimana proprio per preparare i piani di gestione dei stati generali. In questo periodo specifico abbiamo il famoso caro gasolio che avrete visto anche un po' di manifestazioni diciamo all'inizio estate. Noi siamo andati anche a Venezia a manifestare perché è una bella piazza, è una piazza che ci dà visibilità. Perché il gasolio più o meno è passato dai 72-74 centesimi il litro a 1,25 euro, 1,29 euro di ora di adesso. Queste sono problematiche che chiaramente ci portano a trovarsi e a discutere di queste problematiche. Poi ci troviamo spesso con le altre manierie, non soltanto quella che ho giotta, ma cerchiamo di allargare ovviamente il nostro rato d'azione perché quando tu fai i piani di gestione o comunque pensi di avere delle idee da portare ai tavoli, ai tavoli importanti, che in questo caso sono commissioni regionali, nazionali e anche di livello europeo, fare massa critica all'evento è importante. Quindi per noi avere le altre marinerie che hanno sistemi di pesca molto simili ai nostri, per noi volere... Ma per esempio vicino a noi, sempre all'interno del Veneto abbiamo Pila, che ha una flotta per quanto riguarda i piccoli velaggi particolarmente importante. E tenete conto che Veneto ha anche un settore che è quello delle acque interne, cioè le lagune, le acque di transizione, vengono chiamate molto particolari, con allevamenti ma anche pesca. Ora, come diciamo, siamo molto più organizzati di quello che uno da fuori potrebbe effettivamente avere l'impressione. La professoressa può vedere siti come venete l'agricoltura, piuttosto che il flag, piuttosto che quello regionale, per vedere la montagna di lavoro che c'è e che è fatta, così come ve l'ho descritta io, con un ascolto delle imprese, della base, dei pescatori, che poi viene mediata ovviamente da tecnici, nel caso mio, per l'evoluzione poi di normative, noi siamo usciti da poco, dal 12 di settembre, da un fermo pesca particolarmente difficile, in cui ci ha visto addirittura allungarlo di due settimane, perché questo ci consentiva, e questa è una cosa un po' lunga, di assorbire delle giornate di pesca che avremmo dovuto comunque concedere, quindi di non pescare, per farlo, tutti insieme, in un unico blocco. Uscire in mare il 28 di agosto, piuttosto che il 12 di settembre, vuol dire trovare le triglie, anziché 9 cm, trovarle magari a 11, e quindi avere una taglia minima, commerciale, sicuramente è molto più favorevole. Ok, so you stop, come si dice fermati, from the end of August, 27 of July, until the 12 of September, they stop fishing because of a lot of problems connected with the nearby adversity and the environment. Poi abbiamo delle misure, che vengono chiamate proprio misure post fermo pesca, che ci costringono a pescare ad una distanza abbastanza ampia dalla costa, che va fino a 6 miglia, quindi noi possiamo pescare soltanto fuori dalle 6 miglia, ed è tanto, è un pezzo di mare per tantissimo. So you can go out 6 miles from the coast? Un miglio fa 1,8 km, quindi provate a immaginare 6 miglia e tantalogo. Perché? Perché noi all'interno di quest'area protetta da 0 a 6, proprio durante il periodo estivo, abbiamo chiaramente la riproduzione, cioè abbiamo quello che per noi è il più importante. So why you cannot fish there? Because there is the reproduction of the fish, so you have to leave time alone, quiet, so you have to move far from that cart. Un'area che va profonda, un'area che stiera. Questo cesserà il primo di novembre, quindi al primo di novembre noi ritorneremo chiaramente alla normativa, quella che ci regola durante tutto l'arco dell'anno, che ci consente di pescare da 0 a 3 miglia. Il primo effetto che noi vedremo, ma non so se chi poi mi ha descritto prima all'interno del padiglione, la prima cosa che vedremo sarà nelle soglie o nelle leggermente più piccole. Perché questo è una cosa normale, nel senso che la protezione da 0 a 6, è chiaro che tu quando puoi entrare 3 miglia più vicino alla costa vai a beccare i giorni, questo è evidente. L'altra misura molto importante, che io almeno ritengo molto importante, è che tu quando rientri dopo un periodo così lungo di stop, non facciamo una settimana completa di pesca, tra l'altro neanche prima riusciamo a farla, ma ci si autolimita a 3 giorni alla settimana o 60 ore di pesca. Cosa succede? Che chi ha un'imbarcazione più grande, di dimensioni più grandi, tende a utilizzare le ore, perché esce, ha un bel po' di navigazione da fare, che chiaramente non viene utilizzata dall'attività di pesca, e quindi mediamente fa circa 34-36 ore in una, si dice, portata di pesca. Cioè, mollo all'ormeggio e ritorno all'ormeggio. Ok, se hai un bel po' di navigazione, preferisci 60 ore. Ok, quindi vai e resta per 60 ore. Esatto, mentre le piccoline fanno il periodo giornaliero intorno alle 10 ore, cioè escono all'una, alle 2 di notte e tornano all'una e mezza, 2, per riuscire a fare il mercato che arriva di stop. Quindi se fanno 10 ore da lunedì al venerdì, sono 50 ore. E quindi sono abbondantemente all'interno delle 60 ore che ho visto. 50-60 ore di lavoro. Quanto vedete? La devo un po' articolare, ma sono in grado di farlo. Allora, Marco, non mettiamo in conto gli aiuti europei e italiani? Allora, io non posso entrare ovviamente all'interno dell'impresa, cioè di quello che è una normale azienda che sia in mare o che sia a terra, che può avere, come posso dire, un'attività più florida e quindi magari pescare dei pesci che ha un valore aggiunto maggiore, quindi un prezzo al chilo più alto, così come per esempio non posso paragonarlo a chi fa quella che viene definita in Europa, ma con l'Italia c'è un po' di contrasto sulla misura, che viene definita piccola pesca artigianale costiera, che già in nome è tutto un problema. Quale è la differenza tra quello che è il dipendente e quello che è l'intestità? Allora, il dipendente, questo è regolamentato dal contatto, ovviamente, Collettivo Nazionale del Lavoro, la legge è la 413 e deve guadagnare almeno 1.423 euro al metro. Un pescatore, in questo caso io metterei barra, marinaio. Ok, fisherman slash marinaio, you say expert in a moving shi e no, why you say it in a moving shi e no? Perché non è un dipendente, è un marinario, che è dipendente, ma è prima di tutto un marinario. E' un gioco di parole, ma in realtà la professoressa è fondamentale, perché chi è a bordo, prima di tutto un marinario. Dopo è anche un dipendente. E' anche risposta. Prima è marinario. La differenza tra marinario e pescatore? Eh sì, eh lo so. Allora, vediamo di capire. Potranno essere sinonimi, Marco, però... Non lo sono, non lo sono. Sono delle decisioni che io so che la faccio, la domanda. Adesso io provo a spiegare. Siamo cercando di capire la differenza tra un marinario, un expert in un volante, un manager in un volante, e un fishery. E in questo caso abbiamo la stessa persona. Ok? Le due stanno stanno stessa, ma è chiamato a spiegare meglio... Prova a farmi un esempio. Allora, oggi noi non le abbiamo viste, ma se dopo passeggiate, magari qualcuna la potrete vedere. Noi abbiamo le volanti che pescano con due enormi barche, perché da noi sono decisamente molto grandi, non so se in zennaro dopo... Sono quattro scale. Sono quattro scale, sono quattro scale, sono quattro le spalle. Quindi queste due imbarcazioni pescano con una rete. Just one net. Ogni barca ha un braccio. One net, one arco. Si chiama proprio... Si chiama un braccio. Ok? One net, one arco. Quindi cosa succede? Loro sono a caccia con il sonar della macchia del pesce aggiorno. They are working for the... Brank... Come si dice Brank? Il pesce? The group of fish. Lo vedo con il sonar. Ok? They can see with... Il colore che dà il sonar da anche la quantità e la tipologia del pesce, lo vedo, perché chiaramente questa è esperienza. They can understand the kind of fish, the quantity of fish, ok? The radar, il sonar. Eccolo così. Quando l'hanno vista la macchia, a quel punto vanno a caccia, quindi si dividono, tornano sui loro passi, ok? Si avvicinano, si passano il braccio, una delle due, perché ognuna ha una rete a bordo, perché è anche di riserva, si passano il braccio, a quel punto divergono, si posizionano a 400 metri circa di distanza, una dall'altra, e hanno la rete che si chiama pelagica, perché effettivamente è mostrascica sul fondo. e ritornano esattamente dove hanno visto il punto nave di la macchia che vi ho detto sull'esco scandale. Tirano, il nostro, noi abbiamo anche un protocollo, tirano non più di 20 minuti, 20 minuti, not more? Per un discorso di qualità, quindi noi stiamo molto attenti alla qualità, per cui voi immaginate la pressione che c'è ovviamente nella parte finale, quella che noi chiamiamo il sacco, che ha una maglia di 20 minuti per i piccoli pratici, questo è il regolamento, però provate a immaginare quanta acqua entra all'interno del sacco, per cui 20 minuti sono più che sufficienti, perché c'è altrimenti un effetto lavatrice, e quindi il pesce perderebbe le scaglie, perderebbe, insomma, la lucentezza e la qualità che invece per noi è comunitata. Quando hanno finito la tirata, ci si riavvicina di nuovo, e il sacco viene diviso in tagli, cioè viene strozzato in tagli, tirato a, chiaramente tirato a bordo, messo all'interno del bagli, con acqua fredda e ghiaccio. Detto questo, chiedo alla professoressa, chi ha pescato? Chi ha pescato? Il marinario? No. Il pescatore perché porta lì la barca? Allora, chi pesca è chi comanda la barca, che è anche il camomarca, che è anche il capo pesca, e per quanto riguarda chi ossa? Il marinaio. Il marinaio, a sole di dico cosa? Lavora. Il marinaio... Ok, questo è il fisherman. Il marinaio provvede, in zona poppa, con grande attenzione, a fare queste manovre di passaggio del braccio e il taglio successivo. La cala sul baglio, e quindi provvede al ghiaccio, all'acqua, poi questo pesce, che mi dispiace, ma muore in maniera istantanea di freddo, ed è questa la cosa fondamentale, può darsi che qualcuno magari si senta un po', io lo mangio morto da freddo, non so voi se lo mangiate morto da freddo, ma è buonissimo morto da freddo, perché prende subito il rigolo mortis. E quindi ha anche una durata nel tempo sicuramente... Scusami, ma la differenza prima dell'orata del rigolo mortis da freddo, che dura lì, salda... Fondamentale, il rigolo mortis, se io devo portare questo prodotto in Spagna all'interno di un van frigorifero, se non ho fatto queste procedure all'interno di rimarcazione, arriva pappa, di fatto, dopo 24 ore. Dieta, perché del freddo l'occhio. Ok, quindi il rigolo mortis, sai cosa il rigolo mortis è? Ok, si stanno solo... Sì. Non lo so, ok? E questo è per cui è molto... fresco. Stanno cercando a mangiare. Stanno cercando a mangiare. Non è così. Ok? E questo è il migliore di uomo, il migliore di uomo. Esatto. Cosa fa il marinario uomo? Chiaramente deve avere capacità di muoversi nella barca, deve avere capacità di destreggiarsi con quelle che sono anche la sicurezza, i movimenti, perché ci sono delle attrezzature veramente molto importanti, non i vericelli che sono potentissimi, e cavi in tensione, che ne sono moltissimi. Specializzato. Fino a 7-8 anni fa, esatto, fino a 7-8 anni fa, quello che c'era all'interno del bario veniva selezionato a mano, sopra dei tavoli, delle tavole enormi, 6-7 anni fa? Sì, circa. Ok? 6-7 anni fa, si lavorano con le mani. Ora, invece, non vogliamo più che venga toccato con le mani, ma c'è un valo, un selezionatore, che divide la specie, quindi sardine e acciughe, e la taglia. Quindi anche i più piccoli, noi siamo in grado di scattarli, perché chiaramente noi dobbiamo avere una pezzatura. I commercianti pescano sempre e comunque, cioè acquistano, scusate, sempre e comunque rispetto a un peso-chilo. Ok? Quindi quando il mio direttore vendita si interfaccia con il commerciante, con Egidio in questo caso, e Dio dice, come sono? Lui gli dice, sono 85 pezzi-chilo. Lui sa cosa vuol dire. Sa quanto grande è il pesce. They are experts and they say how many kilos, how big is the fish.